io io vai aspetta facciamo una prova ah no è un po' incaminata male vai vai allora io 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 mi ripalto allora ciao a tutti buonasera che la luce è veramente troppo forte un po' di boccaccio si stanno facciamo anche il balletto dimmi dove quando questa sera non arrivo in ritardo no allora aggiornamenti vai eh aggiornamenti facciamo il ciac ripartiamo questo era il pre giusto per per scaldarmi il preambolo il pre ciac vai allora eccoci qua aggiornamenti su viaggio avventura esperienza come cazzo lo vogliamo chiamare ho detto che non dovevo dire parla rifacciamo ciac ciac ciao buonasera a tutti eh sono qui per fare l'aggiornamento sul viaggio viaggio avventura un'avventura busterino avventura busterino morciano milano allora questo senso ho caricato il video ieri non so se l'avete visto comunque mi ha scritto un ragazzo che ha visto il mio video che lui è più matto di me cioè sì 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 alla fine forse lo saluto anzi siamo mandati l'amicizio insieme siamo iscritti e lo saluto ecco saluto Gianni Barberino ecco non so se si vede qua la telecamera ok e mi ha scritto ha visto il video quello di ieri dove dicevo che da solo comunque mi sarei non so come mi sarei trovato no se è qualcosa mi devo spingere il busterino fino al meccanico e lui invece cosa fa lui prende il kayak e va va per il mare da solo solitari infatti mi ha detto guarda io faccio è qua ciao Michele complimenti per il canale bla 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 il mio viaggio e faccio avventure vedi in solitaria vedi quindi io gli ho detto guarda ho visto i tuoi video e mi hai fatto capire che se tu vai in solitaria in mare se tu vai in solitaria in mare che rischi veramente tantissimo io vabbè per strada è vero incidenti ce ne so però beh l'unica cosa è che mi si può rompere il motore o la candela mi devo fermare a cambiare la candela oppure mi tocca spingerlo fino al primo meccanico mi ha fatto capire infatti tante cose questo ragazzo infatti gli ho scritto guarda veramente e se adesso infatti volete vi faccio vedere anche qualche video perché comunque li ho visti però anche lui no anche lui capisce che a un certo punto fai delle pazzie un po' troppo comunque ecco sto facendo una pazzia inizio adesso ad accorgermi vedi a metà strada però adesso inizio a capire realmente che ho fatto una pazzia sì perché andare senza senza niente se portato solo la gopro almeno il telefono chiami qualcuno invece niente se portato la gopro dietro basta io almeno almeno io mi porto il telefono metto google maps almeno mi fermo a guardare da che parte devo girare comunque mi ha fatto capire che mi ha scritto che comunque devo farlo da solo devo devo fare una solitaria dai comunque bravo bravo Gianni comunque veramente non ho mai visto i video molto belli e poi veramente ho fatto una cosa è un'impresa mi ha fatto capire che insomma se uno vuole fare qualcosa la fa c'è un sacco di gente intorno a me che mi dice ma perché lo vuoi fare perché 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 mi va di farlo se una cosa ti va di farla è un'esperienza comunque ve lo voglio far capire questo è l'aggiornamento e qui vi ho fatto capire che forse è meglio che faccio la solitaria come fa lui tanto sono sulla strada alla fine un aiuto se succede qualcosa lo trovo va bene un bacio ciao a tutti e niente vi tengo aggiornati da quanto ormai vado fatto è andato ah Bob Bob fammi sapere infatti quando quando ciao tac via tac tac